buongiorno sto facendo l'unica partita del giorno perchè tra poco devo uscire di casa e sarò in viaggio tutto il giorno quindi più di una non ne riesco a fare in nessun caso questa volta il grandmaster ce l'ho proprio al rank corrente non è nemmeno un ex grandmaster non capisco perchè ieri alla fine ho fatto mi pare quinto, quarto e quinto il mio MMR non avrebbe dovuto essere più alto invece a quanto pare è ancora alto ho un po' rinunciato a capire il modo in cui funziona l'MMR questa season ad essere sincero ok due bei champion nessun oggetto purtroppo però non è comunque una brutta cosa uno lo venderò alla fine perchè ho due woodland quindi mi sa che vendo questo anche perchè così libero l'oggetto e lo metto dove voglio non so chi chi ha guardato l'ultimo video che ho fatto ieri ma lo ripeto anche qua da domani cioè da oggi fino a più o meno il 3 4 dicembre credo si dicembre gennaio non potrò più fare tre partite al giorno perchè sarò fuori casa quindi se tutto va bene dovrei riuscire a farne uno o due al giorno ma molto più probabilmente una ma non è nemmeno sicuro perchè dipende dalla situazione che trovo non sono sicurissimo che il mio pc la sia buono per registrare il video perchè ho un pc abbastanza scarso quindi dovrò vedere come va 3 gold altri 3 gold un oggetto ok ho una trap claw oppure una crossbow oppure un hydra tipo tutti e tre i peggiori oggetti cioè non avevo trovato nemmeno un vladimir ha deciso di darmene tre assieme ma che what come fare un refresh ma ok ma ok quanti ne ho vabbè allora iniziamo a vendere le cose non so cosa fare boh per ora sto così che devo fare eh questa l'ha aperta molto probabilmente come buttare su degli oggetti tanto non credo che alla fine farò vladimir comunque nel dubbio potrei vendere zaira potrei vendere taglia potrei vendere oh comunque è forte questo questo vladimir c'è poco da dire un altro vladimir un renector no non ce l'ho warwick no oddio non so più cosa fare qua quindi diamo diana compro questi due non so se fare un reroll si dai cosa ovviamente ho trovato diana non ci posso credere ma come si fa a trovare sto schifo così non riesco a fare un champion a due stelle se non il vladimir che ho già eh questa potrei anche perderla devo confidare molto in vladimir beh dai alla fine i miei woodland dovrebbero comunque riuscire a tankare le blanca pure stanno nato un po' renector magari ce la faccio vediamo vai vladimir vai che diana è morta o quasi un bello scudo e tutto diventa possibile nice non posso comprare niente perché ho tutti gli slot occupati due jacks non mi sembra il caso di prendere ho trovato questi due e ho trovato un ico what vabbè senti diciamo così per ora del resto non so cosa fare vendo no non posso vendere i predator rimango veramente un po' bloccato così ma come faccio a tenere tre woodland e a vendere il resto se non ne trovo neanche una o due stelle devo per forza tenere entrambe le cose e vedere se riesco a sbloccarli ora comprerò pure nico o magari dovrei comprare bro dai comprerò nico voglio dare ancora una piccola opportunità ai woodland poi se trovo un cogmo semplicemente metto i predator e c'è woodland perché inizia a diventare un po' brutto no dai prendo bro allora un attack speed su vladimir che tra l'altro è anche abbastanza sbagliata assieme alla quale potrei mettere non lo so nulla in realtà ok la spatura è andata tra le tre prenderò nocturne questo lo accetto uno due ah mi sono già tre ok che brutta idea facciamo così dai quantomeno ora un team abbastanza forte non credo che sarà questo il turno in cui arriverò a 10 gold però perché devo vendere così tanta roba che non mi rimane niente quindi semplicemente mi appoggio alla mia win streak per i soldi e tengo un attimo per capire cosa fare ovviamente mi servirebbe come prossimo champion una sindra visto che ho due mage e un ocean ed è l'unica cosa che mi può dare sinergia assieme ok c'è un kaziz no basta non posso continuare a fare due team assieme ora sta diventando veramente un po' ridicolo vendiamo questo questo eppure eppure basta prendiamo trash che tanto a 20 gold non ci arriva ok nulla che voglia veramente comprare quindi resto a 20 gold che va bene mazzo anche lui sta facendo mage ocean 3 inferno 3 predator raid master warden druidi electric electric warden e un altro ocean mage no non ci siamo qui siamo in 3 a fare ocean mage non va bene anzi più che siamo in 3 dovrei dire sono in 2 perché non li sto ancora facendo io sto delirando ok a proposito di deliri faccio anche questo un altro bel delirio venderei questo voliber e questo horn almeno sono a 30 gold non sapendo cosa fare ok ok si dai dovrei riuscire a vincere anche questo pure se il morello mi da molto fastidio spero non mi colpisca troppa roba no ha preso solo mohkai perfetto non l'ho nemmeno rischiato anche lui continua a vincere sarebbe uno scontro pesante c'è un livello metto trash per ora almeno vado a 2 ocean così perché mi mancano scudi e difese quindi ci sta un bel trash eh no questo reroll mi ha dovuto far comprare brawn penso che lo venderò se perdo perché il resto è meno vendibile basta non credo di perderla non credo proprio ma comunque ci sto andando vicino a perderla no ma che davvero eh vabbè si è compiuta la tragedia anche perché ora davvero non so cosa fare non sto trovando i mage e gli ocean ho perso la wind streak sono a piedi qua proprio in modo irrecuperabile no vabbè irrecuperabile no ma sicuramente è dura adesso ecco giusto per infierire sono andato contro contro di lui che invece i mage ocean li hai trovati meglio comunque me la gioco vediamo ho ancora due vladimir vivi ce la potrei pure fare la static shiv onestamente è forte questa è una bella lotta io c'ho una trap club ma nessuno fa cc quindi mi sa che vincera lui perché se fa un double cast ok non ha fatto un double cast buono sono andato a rovinare la wind streak anche a lui una piccola soddisfazione il mio team però è la disperazione qua perché non so proprio cosa fare ho una magic resist come oggetto forse mi converrebbe prendere ah o ap o magic rest l'ap non c'è più oppure brand ma me l'hanno tolto quindi niente non ero convintissimo di prendere brand perché è un po' scarso ormai ok sono riuscito a venderlo in qualche modo ora mettiamo questo qua facciamo un paio di reroll le blank no dai non la voglio neanche prendere potrei fare così quanto può essere una brutta idea un po' proviamo eh questo è grosso vediamo come va non è particolarmente forte mal fight forse avrei dovuto lasciare due vladimir il problema è che qui non muore niente perché io non c'ho i danni eh mi è andato giù ivernor è finita non sono riuscito a uccidere questo maokai per l'intera partita semplicemente è fuori dalla mia portata non posso fargli abbastanza danni per ucciderlo veigar veigar boh forse si possono quasi quasi smontare i woodland ora vediamole facciamo così intanto così tanto ho tolto lui quindi ho fatto i tre mage non so se sia meglio di prima onestamente questo lo potrei anche vendere Olaf tanto mi sa che l'unica partita che faccio oggi sarà uno schifo perché già gli ocean sono un team discutibile ma se ma se gli gioco così e se parto così sicuramente va male questo non può che morire ora no non ci siamo proprio non ci siamo proprio per niente mi venderebbero un tanto non credo che andrà più nel team prendo questo trash non ho ancora visto un Nautilus tra l'altro anche questo non ho visto né un Nautilus né una Sindra per la precisione non ho più trovato il terzo Maokai ma poco importa perché comunque lo venderò a breve ho degli oggetti scandalosi su Vladimir che proprio non ci hanno senso ok ho trovato una Sindra ora faccio un livello ok ho fatto delle cose no ho fatto degli errori qua vabbè dai questa è vinta mi preoccupo dopo degli oggetti fammi vendere Maokai Maokai e siamo a 40 allora intanto questa la metto qua perché a sto punto e poi devo trovare questi Warden ho trovato un brand lo prendo lo prendo perché devo è sbagliato eh però sono un po' alla frutta qui quindi qualcosa devo fare eh questo me l'ha distrutto giustamente si punta a non perdere troppi punti in questa partita credo a meno che abbia veramente una bella botta di culo che trovo tipo 3 Warden poi trovo magari un Veigar Amumu qualcosa che mi dia un senso late game ma non si ad avere i miei dubbi Mastery proprio non no ok ho trovato lui non ho più trovato né Syndra né Trash né Fight né Nautilus né Veigar questo è sicuramente un grosso problema eh questo ha tutto a due stelle quindi la vedo male con tutta la buona volontà non credo di poterla vincere no non solo non la vinco ma mi toglie una quantità di punti imbarazzante a tutto vivo a due stelle eh non ci voleva sta botta penso nemmeno se vendere sì dai vendiamo una taglia mi serve un gold in più devo provare sti 4 champion prima che la partita sia finita sennò veramente arrivo ottavo qua una Magic Resistance boh prendo Tarik sono 5 gold non sia mai che trovi un AP dai polli magari posso fare un Morel ok Nautilus c'è Trash c'è va già un po' meglio li avessi trovati prima qui c'è Mumu lo metto anche se al momento non è molto utile ma chissà magari in futuro e per il momento mi fermo un attimo ma tra l'altro io ho un solo Veiger non ne ho due eh questo di nuovo mi toglie tanto almeno ammazza sto Sion che danni che disastro sono penultimo beh direi che è finita qui è proprio finita non mi resta che un po' di sana disperazione metto un champion in più ho trovato Malphite questa è un'altra che probabilmente perdo grazie anche a questo Singed Immortale col Morel non sono proprio attrezzato per ucciderlo non sono attrezzato per no rivoltavo non ci posso credere non ci posso credere guarda che schifo di partita lo sapevo che non dovevo fare gli ocean li ho fatti lo stesso e ora finisco malissimo vediamo un po' se riesco a trovare un altro brand magari colui qualche danno in più lo fa more I can get so much more che disastro non sto trovando di nuovo nulla manco Sindra non solo non ho trovato brand ma neanche Sindra boh vabbè sto mettendo oggetti a caso a questo punto questo è riuscito a fare un team per il late game almeno a differenza mia no aspetta aspetta che magari ce la faccia un ottavo posto risicato un settimo nel senso che mi sono risicato via l'ottavo da lui vabbè il concetto è chiaro anche se non è chiaro quello che sto dicendo proviamo a fare l'inferno anche a costo di buttare via costale blanche cerco brand e Sindra se il giacomo mi vuole fare la cortesia di darmene uno no non me la vuole fare la cortesia proprio neanche l'idea l'infinity non so a chi darla la darò a vladimir no vladimir è morto la do a brand gli do anche la swordbreaker ma quanto è bello questo brand con i suoi tre oggetti ideali eh ciao è stato bello settimo sì eh vabbè quando le partite fanno schifo del resto ok una partita al giorno non è anche tanto lunga se vanno tutte come questa 26 minuti di tragedie delirio per cui direi che con questa oggi ho finito ho dato un bellissimo spettacolo e vabbè che imbarazzo a domani mi spiace ciao 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 ciao